Questo messaggio ragazzi è per dirvi che anche l'Andro è reale completo, anche se non sono qui con me, supportano Francesco Mussoni. Ha scritto un nuovo album, si chiama Fiato, e direi che il nome già dice tutto perché la sua voce è veramente qualcosa che fa bene. Quindi mi raccomando che ecco dacci dentro e soprattutto noi diamogli una mano che ne verrà la pena. Ciao ragazzi, io vi volevo assolutamente invitare ad ascoltare, apprezzare e comprare il disco del mio amico Checco perché veramente merita. Fiato, un disco bellissimo, ho ascoltato qualche pezzo, è veramente una voce bellissima, dei testi veramente molto belli e assolutamente veramente compratelo, compratelo, compratelo e facciamo questa cosa bella perché ragazzo che sono merita. Vai Checco, buca al lupo, si può fare tipo anche compri il disco, fai la cena, compri il disco, hai la dedica. È una figata, assolutamente, grande Checco, Fiato. È importante sostenere un progetto come questo perché questo è un periodo in cui si pensa che la musica sia gratuita e invece la musica non è gratuita, la musica costa impegno, sacrificio e la qualità anche. Di conseguenza ci sono dei costi da sostenere e sostenere delle iniziative degli autori indipendenti, soprattutto anche poi quando sono amici, è una cosa piacevole e assolutamente necessaria. Orsu, date il vostro contributo al nuovo album di Francesco Mussoni, si chiamerà Fiatto, sarà un bellissimo album sicuramente, fatelo con le buone perché se no viene sotto casa e ve lo trovate attaccato al campanello. Anche Miami and the Groover supportano il progetto di Francesco Mussoni e del suo nuovo album, sostenetelo anche voi. Se io vi dico Fiato, cosa vi viene in mente con Fiato? Fiato, non è questo, è pur che è il titolo di un album di un amico che si chiama Francesco Mussoni, da ascoltare, mettete un po' mi piace, ascoltatelo così, è interessante. E' Francesco, Fiato, date fiato al vostro fiato, no, date fiato alle dita, questa è carina, date fiato alle dita per ascoltare questo album di Francesco Mussoni. Oh, è in bocca al lupo, che ecco, ok? Ragazzi mi raccomando, eh? Fiato. Sta diventando virale, aiutateci a far sì che diventi ancora più virale, contigioso. Comprate questo disco bellissimo. Perché comprare il nuovo lavoro di Keco Mussoni, di Francesco? Beh, perché mi piacciono i suoi live, mi piacciono i suoi testi, mi piacciono tutte le canzoni che finora ho ascoltato solo dal vivo e sono curioso di vedere il risultato che ho ottenuto in questi mesi di sforzi, di lavoro, con altri musicisti capaci. E consiglio a tutti di fare lo stesso, perché penso che rimarremo tutti piasevolmente sorpresi da queste novità. Perché bisogna contribuire al preordinamento dell'album di Francesco Mussoni? Perché è bravo, perché è sensibile, perché scrive dei pezzi che sono una bomba. Io ne conosco già un po', perché insomma ci ho collaborato un pochino. E morale, prenotate, 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 perché Francesco merita, deve emergere, Francesco è un grande. Io l'ho già ordinato, quindi voi fate lo stesso. Ciao ragazzi, parola di Ciri Ciaccarini. A presto. Ma sono qua sul divano di casa, stavo cercando della bella musica da ascoltare. Mi è venuto in mente un mio caro amico, nonché grande cantautore della zona, che scrive belle canzoni ma il disco dov'è? Non c'è. Lo volevo ascoltare e non so come ascoltarlo. Quindi, Checco, subito, muoviti. Questo disco lo voglio sentire, lo voglio comprare e suggerisco a tutti di tenersi in casa il suo disco, perché sarà sicuramente un capo lavoro. Ciao! Ciao!